amiche e amici di grottaglie oggi la nostra passeggiata ci porta fuori dal centro abitato sulla strada per san marzano lo riconoscete alle mie spalle il ponte della ferrovia ci dice che stiamo per arrivare alla gravina di pensieri andiamo a scoprire alcune delle sue particolarità seguite grazie grazie alle mie spalle una delle tante testimonianze della capacità dell'uomo di incidere sull'ambiente circostante cercando però una armonia tra i manufatti che realizzava e quelli che invece la natura aveva creato nel corso degli anni grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.